Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Il passaggio di una perturbazione determina oggi lunedì condizioni di instabilità e variabilità. L'ingresso di venti di burrasca settentrionali porterà una decisa attenuazione della nuvolosità al ritorno del sole martedì, mercoledì soleggiato con temperature in ripresa. Il dettaglio oggi lunedì 1 ottobre, instabilità e variabilità con possibili rovesci o temporali in prevalenza moderati, anche associati a locali grandinate, saranno possibili inoltre isolati rovesci o temporali di intensità fino a forte. 20 settentrionali in rinforzo fino a burrasca a 60-70 km orari, raffiche fino a 80-100 km orari. Mare fino a molto mosso a Ponente, mosso solo localmente molto mosso a Levante, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 20-23 gradi, nelle zone interne tra 16-20 gradi. Domani, martedì 2 ottobre, l'allontanamento della perturbazione e l'ingresso di un flusso secco settentrionale determinerà una decisa attenuazione della nuvolosità, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, disturbato da isolati addensamenti da qualche passaggio nuvoloso. 20 in mattinata settentrionali fino a burrasca a 60-70 km orari, con raffiche fino a 80-100 km orari. Parziale attenuazione nel pomeriggio. Mare da localmente molto mosso a mosso a Ponente, mosso in lento calo a Levante, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 11-16 gradi, nell'interno intorno 5-6 gradi. Massime stazionare lungo la costa tra 20-23 gradi, nelle zone interne tra 16-18 gradi. Dopodomani, mercoledì 3 ottobre, condizioni anticicloniche associate al permanere di 20 settentrionali, che garantiranno una giornata di tempo stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso e bassi valori di umidità. 20 settentrionali tra moderati e forti, mare da mosso a poco mosso a Ponente, poco mosso a Levante, temperature minime in aumento lungo la costa tra 13-17 gradi, nelle zone interne tra 6-8 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 25-27 gradi, nelle zone interne tra 21-24 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!